25 ottobre, martedì, bentornati, l'informazione di Senigallia Web TV. La cronaca. I carabinieri di Senigallia hanno arrestato per truffa un 39enne. L'uomo dovrà scontare una pena residua di quattro mesi di reclusione. I fatti risalgono all'ottobre del 2010. Il 39enne, esperto in truffe online, in occasione del concerto di Vasco Rossi, pose falsamente in vendita online alcuni ticket. Indusse in errore un giovane residente a Montichiari, provincia di Brescia, che poi ha presentato denuncia che lo contattò per acquistare i quattro biglietti. Sparì dopo aver intascato il prezzo degli stessi, 240 euro, tramite monifico su poste pay. Una lite in famiglia, con grida e lanci di oggetti, ha richiesto l'intervento della polizia in un'abitazione di Cesanella di Senigallia, ad allertare le forze dell'ordine e i vicini di casa preoccupati dalle urla provenienti dall'abitazione di un'anziana coppia, di cui lei, malata di Alzheimer, e del figlio. Sul luogo è intervenuta anche un'ambulanza. Per la prima volta la Regione Marche impegna fondi della Comunità Europea e servizi sociali, programmando bandi destinati ai 23 ambiti territoriali, per 14 milioni di euro nel triennio, con una quota 2016 pari a 5,6 milioni di euro. A questi 14 milioni, sulla stessa linea, ne seguiranno altri 14 per il successivo triennio. Se pensiamo, peraltro, da dove eravamo partiti, insomma, ricordo la prima seduta di insediamento del Consiglio regionale, quando tutti i gruppi posero come prioritario il problema del rifinanziamento del fondo sociale, oggi possiamo essere soddisfatti del fatto che, appunto, non solo è stato finanziato, ma è stato anche ampiamente implementato come quantità rispetto agli anni precedenti. Poi, chiaramente, ci sono le varie declinazioni, ci sono le varie novità anche, la forte presenza di fondi sanitari che garantiscono anche una maggiore strutturazione del fondo sociale, l'utilizzo dei fondi europei, che era una di quelle manovre che da sempre si cercava di attuare, e finalmente ci siamo, appunto, riusciti. E questo, chiaramente, dipinge un panorama per quel che riguarda le politiche sociali della nostra regione, è venuto un po' più certo e anche un po' più roseo rispetto al passato. Cambiamo pagina. Le opere di Mario Giacomelli sono esposte a Foggia, presso la Sala Rosa del Vento in via Arpin, in una mostra organizzata dal locale Fotocine Club e dalla Fondazione Banca di Monte di Foggia. Le immagini della Puglia, esposte insieme a una sintesi del suo lavoro fotografico, sono state realizzate da Giacomelli prima nel 1958 e successivamente nel 1982. Con il musical Peter Pan, per la regia di Maurizio Colombi e le musiche di Edoardo Bennato, in esclusiva regionale il 5 e 6 novembre, prenderà a via la stagione 2016-2017 del Teatro La Fenice di Senigallia, targata ancora una volta a Compagnia dell'Arancia e Amat. Una stagione, come avviene ormai da alcuni anni, che nasce sotto i migliori auspici, grazie al nuovo record di abbonamento iscritti, i quali, per prosa e per danza, hanno ormai raggiunto la cifra di 600, ben 100 in più rispetto alla stagione passata. Slow Wine 2017, storie di vita, vigni e vini in Italia, presentazione della guida Slow Wine, che interpreta e racconta il mondo vinicolo italiano, alla Rotonda Amare di Senigallia, domenica 30 ottobre, a partire dalle ore 17. La presentazione è indirizzata a tutti, quindi appassionati, pubblico, ristoratori, enotecari, chiunque in qualche maniera è amante del vino, è amante del vino marchigiano, e quindi può passare un pomeriggio, qualche ora nel pomeriggio, ad assaggiare quello che, secondo noi, è il meglio della produzione marchigiana di quest'anno, dei più ultimi anni. I vini premiati saranno pressoché presenti tutti, quindi parleremo di 35-36 vini premiati e con poi anche la presenza di molti produttori ovviamente del pubblico. Ci saranno tre banche di assaggio relativi ai tre riconoscimenti che noi diamo con la guida, ovvero il grande vino, vini che hanno una qualità eccelsa sotto un periodo organolettico, i vino Slow, che sono i vini invece che oltre ad avere un'ottima qualità organolettica, raccontano in maniera particolare il territorio, i vitigni, l'espressività che è quella zona in cui vengono prodotti da vino, e poi i vini quotidiani, che sono i vini che il pubblico può trovare fino a 10 euro circa in enoteca, quindi una produzione low cost, chiamiamola così, meglio della produzione low cost delle marche. Tennis Tavolo, Paolo Spinozzi, da pochi giorni ventenne, è arrivato terzo al torneo nazionale di Verona, categoria over 4-52, vincendo il proprio girone di qualificazione e poi superando tre turni di fila, prima di perdere in semifinale. Le condizioni del tempo di mercoledì 26, sulle Marche, cielo nuvoloso con stratificazioni in aumento da nord nel pomeriggio, precipitazioni attese come ondata in estensione da nord durante la seconda parte della giornata, i venti settentrionali i più sostenuti fino al regime di moderati attesi sul settore costiero. Le temperature ancora in ascesa nei valori minimi, poi in sensibile diminuzione in quelli pomeridiano-serali. Grazie per averci seguito e come al solito l'appuntamento è per l'edizione di domani.